Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Marina Fantato, specialista in dermatologia e venerologia in libera professione presso il centro medico Unisalus di Milano. Di fronte a una domanda del genere viene in mente la prima risposta di curare in primis lo stress e questo è assolutamente vero. Non bisogna mai dimenticare che questa è una parte della cura della vitiligine, ossia la parte diciamo più prettamente psicologica, la cura dello stress, ma il gold standard per il trattamento della vitiligine rimane pure sempre quello della fototerapia, come ad esempio la nostra che si avvale sia della microfototerapia mirata del Total Body, ossia la metodologia Ratten del centro medico Unisalus di Milano. Grazie.